C'è la telefonata da parte del finto carabiniere, piuttosto che dal finto operatore di erogazioni di servizi. Insomma, ci sono tante tipologie, quindi alla prima avvisaglia le persone che si sentono minacciate devono rivolgersi al 112. Sono gli anziani e le persone fragili sempre più spesso le vittime di truffe e raggiri, un fenomeno che purtroppo sta diventando sempre più diffuso anche in provincia di Arezzo. Sono più fragili sia per un discorso anagrafico ma anche per un discorso emotivo. Non dimentichiamo che questo tipo di truffe colpiscono le persone anziane ma anche persone meno anziane facendo leva su quello che è proprio lo stato emotivo. Quindi l'obiettivo principale è quello di informare quante più persone possibili del rischio che possono correre, di dargli quegli strumenti per poter reagire nei momenti di difficoltà. Ad Arezzo è stato così siglato un protocollo d'intesa tra Comune e Prefettura nel novembre 2020 ed adesso torna anche la campagna di prevenzione e comunicazione Te mi piaci poco per il contrasto alle truffe e agli anziani. Sino ad ottobre la Polizia Municipale sarà presente a sabati alterni al mercato settimanale del Giotto. Quello che abbiamo fatto nei mesi precedenti, toccando 27 parti della città, quindi in maniera molto diffusa e molto consistente, ha permesso due cose. Una, la forza più importante, è quella di intervenire in caso di bisogno e quindi di allertare il cittadino che diventa prima di tutto difensore di se stesso e poi allerta le forze dell'ordine per che queste persone possano essere assicurate alla giustizia. Il secondo elemento è quello che attraverso una informazione diffusa la moltiplicazione della capacità di farsi parte attiva diventa maggiore. Quindi la volontà di continuare intanto fino a ottobre e poi valutare se continuare ancora nasce proprio dal fatto che il risultato è stato tangibile di sicurezza e di informazione, quindi di consapevolezza.